ma dov'è patrick? schiena schiena e dai ieri quello vuoi chiedere ma dov'è patrick? su trovo il mio patrick arrivo eh aspetta vedo l'applicazione mamma ma creiamo l'applicazione dov'è patrick? e tipo facciamo tipo il tormentone ehi dov'è perrick? però qui è ehi dov'è patrick? perchè c'ho bs? ma c'ho bs aperto perchè? ah giusto vabbè lo tengo aperto così mica il cadosto si fanno un pollo un porno? c'è qua addosso si fanno un pollo quindi confermato hai detto un porno? si faccio blu blu i porno quelli brutti dove si pisciano e si cagano addosso non mi ricordavo che potessi nuotare ma lo faccio solo questa volta non lo faccio più poi non mi ricordavo fosse sicuro mi ricordavo insieme Sì Sì è stato un amico è sicuramente buono è stato un po' più difficile allora andiamo l'inizio è iniziato E' inutile che intende le mie tette No, non posso saltare in acqua, veramente? Città dell'acqua Città dell'acqua C'è un esamino Della cazzata è bloccata Dove ho trovato un'altra stata per entrare Guardando giocato Ma io lì vedo una prova Oh, questo è un demble Tutti gli altri pezzi E' l'ultimo L'ultimo Ma non vale così, non c'ha l'ultimo Dove sta? E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo Oggi Ma non vedi E' l'ultimo E' l'ultimo Altro è lì, altro è lì, ma scusami, io giuro che ci sono passato di qui, non ho preso niente. Ok, l'ho portato in forma dice, questa parte è che, altro verso il cuore di Umbra, questa parte al nodo non me la ricordo. Oh, c'è un castello lì, vabbè è un castello. Ok, gli artigli, io ti voglio provare gli artigli. Oh, c'è un castello. Adesso ho un controllo migliore per sott'acqua, lo potevano fare. Ma dopo tutto, è una parte sott'acqua, nessuna parte sott'acqua è fatta bene. Che devo fare? Configgio di tutti i nemici non potrei usare il sabato temporale. Ok, va bene. Ok, va bene. E' andata bene. Almeno un platino qui, meno mezzo. Cazzo per le combo. Ah, è un platino questo. Ha deciso di bruciare a quest'ora. Uno che gli può dire, a parte che hanno la lama mignota. E gli si è vuoti. Ripeto, a parte avere la lama mignota. Ecco, vedi? Qui? Le missioni, queste qua, no? Sono molto più facili di Baionetta 1. Aspetta, uno... Mi ricordo l'ora che ho impiegato a fare una determinata missione di queste. Eh, sì. Ok, sono più facili. B per scattare. Ah, giusto. B per scattare. B per scattare. Madonna, i comandi sono terribili. Guarda come si girano le ferme. Sto andando semplicemente con lo visuale su, io. Proprio non... Proprio su tangibile, invece. Poi con qualche altro tasto che non fosse la più, potevano usarlo per scattare. Oppure... Non ci sono più... Proprio... Oppure... Spazio. C'è uno? Proprio... Un po' Un po' Un po' . . . . Ah, non è nulla, c'è la bomba. un po' mi hanno dato oh perle di luna ce l'ho complete e ora ce l'ho due cazzigli tondi mettiamo la biscia marina ho detto che era importante che c'era qualcosa qui c'era un nuovo messaggio di titan de lyon l'inferno i capelli sono facoltativi non scherz ecco cosa serve cos'è di otto? nuovo no? ah per il kafka non uso il kafka tecniche ci sono altre tecniche assurde no? accessori cos'era questo? pubisce un attacco assurdo dai mi viene otto attaccato con fondo del potere magico dai aspettiamo va no ah ah effettivamente la magia la mia quindi che è la mia ma che è che bisogna si ecco qua allora equipaggiarlo quindi ora se subisco danno si attiva automaticamente il sabba attentorale quindi ora e mi consuma un po' di cosa che io avevo comprato nel primo baionetta ma non capivo come funzionasse sembra un palo? non si, scappando con un'altra non si, scappando con un'altra non si, scappando con un'altra ma cazzo che esce dall'inferno ma cazzo della gloria feina dell'agonia della gloria ma cazzo della gloria ma cazzo della gloria ma cazzo di Grazie per la visione! 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 salve mazzeltof sempre salve la salvia cosa giocata bionetto o niente non siete in live sì sì io lo sto giocando lui sì cosa gioca certo baionetta ma sei stupido che gioco è ma che lei ha ancora la versione cinese me la ricordo perché preferisce david may cry perché non capisce un cazzo prova david may cry e poi ne ripartiamo prova baionetta poi ne riguardiamo ma l'ho visto da te non mi fa venire poi di giocato non mi dà col tocco di adrenalina sai come fanno gli spari con la roba nelle vene io no spiegamelo tu com'è ma tu che ha lo stesso effetto di una partita di loll quando sei 20 01 quindi nessun effetto perché non lo soverrai mai tante volte l'ho provato beh l'ultimo partito con kindred è stato 26 kg guarda facciamo così se stasera c'è la luna piena stiamo bene sull'oro stasera c'è la luna piena oh che peccata che coincidenza è come il lupo mannara ogni volta che c'era una piena vini su un volo accetto di mizzo se caini wakata e vado pure del culo ha ricevuto poca volta la società conto quanti punti vale investire una persona con due cani in meno dalla patente credo tutti è anche un arresto promicidio colposo i suoi all'ospedale i suoi all'ospedale sono cammino ma un sacco e infatti siamo calcolati i punti della patente penso ai punti tipo dei video giochi mille punti per non l'accumente non l'accumente non l'accumente ma non l'accumente sono volo dattana e niente e viva i cinsati la dita i maschi no, in questo momento ci vuole una risposta di Carmina non è stata un'espaio, ma non è stato un'espaio, ma non è stata un'espaio che si è lei Grazie a tutti. 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 Oh no. 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 Oh no.